Salve, sono Gigi Proietti, vi saluto da casa mia, parlo a voi non più giovanissimi e quindi i miei coetanei, il tempo passa per tutti, ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete supereremo anche questo, per la tradizione noi anziani dovremmo essere i più saggi e quindi siamo ad esempio alla collettività, restiamo a casa perché più gente obbidisce a questa disposizione e prima finisce tutto e potremo di nuovo andare in doce pare. Una stretta di mano e un abbraccio da Gigi Proietti